Per l'Abruzzo oggi una soddisfazione speciale, Valentino Sciotti, Fantini sulla maglia della Israel e arriva la maglia rosa. Guarda, non ci credo ancora, ora ha finito a piangere Alessandro, mi comincia a commuovere io, qualcosa di incredibile. Che cosa significa per te Valentino? La possibilità anche di arrivare in Abruzzo in maglia rosa. Tu sognavi il traguardo di Crecchio, ma qui stai vivendo qualcosa di incredibile. Abbiamo superato ogni più rosa e aspettativa, è qualcosa di fantastico e poi farla con un italiano è ancora più bella. Vi saluto facendoti notare una cosa, ci conosciamo da tantissimi anni e è la prima volta che ti vedo con gli occhi lucidi. Eh vabbè, è qualcosa di speciale.